Ciao a tutti, io spero di non annoiarvi con questi video della Dubsmash però io mi diverto davvero troppo, spero realmente di non diventare monotono in casa scrivetemelo senza problemi e continuo a farli se vai per me stesso e basta perché mi diverte troppo farli però sotto all'ultimo video della Dubsmash ho letto dei commenti che mi incitavano particolarmente a continuare e io appena li ho letti ho proprio reagito tipo scene assolutamente patetiche del genere e quindi niente, io continuo a farle però davvero se mi annoiano scrivetemelo sotto al video e come dire, ok, ne prenderò atto, continuerò a farli per me stesso e però magari evito di tediarmi oltre molto bene, e basta, altra carrellata di video spero vi divertano anche questi un bacio, ciao a tutti e levo questa spada alta verso il cielo giuro sarò roccio contro il fuoco e il gelo lui non c'è sei sicura? si, me l'ha appena detto mi sento più sicura non ho paura e sorrido nooo, che stronzo e gli anni passano e non ci cambiano davvero trovi che sia diverso? guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltarli un po' più spesso bravissimo Kronk, prendi il biscottino ho trovato, ho trovato il vestito quanti quanto, ma se noi ci vien da fare si può rimodernare cosa? un lava? dovrebbe essere morto stecchito eccellente il resto è storia ormai che passa e se ne va è stato un piacere tesoro è stato un piacero che puzza di cacca 99 simmi e saltavano sul letto una cadda in terra e si rompe il cervelletto chi sei tu? chi ti conosce? 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 cavolo allora questo è il caldo lo amo ma non si tocca è vero mezzo un cazzo di colletto un crocifisso che si capisce? è una cosa orrenda ma purtroppo è vera e chi è questo bel somarello qui? quello è sven e chi è la renna? sven hanno lo stesso ok è più facile per me stai cercando questa? questa è la mia voce? è questa la mia voce? e va bene?